Bacchette pronte, cin cin da Rosy Chin, oggi capesante scottate in pangrattato giapponese. Impaniamo le capesante nel panko. In padella facciamo riscaldare l'olio extravergine di oliva, versiamo le capesante e le facciamo cucinare a fiamma alta un minuto per lato. Culis di lampone, fatta con lampone, acqua, poco zucchero e amido di mais. Finisco di guarnire con edamame, coriandolo, zenzero e scorza di lime. È il momento dell'assaggio, che bomba amici!